agevolare la permanenza dei cittadini stranieri all'interno delle strutture di accoglienza territoriali individuate per fronteggiare l'emergenza del flusso dei migranti e questo quanto la prefettura intende fare dopo la segnalazione da parte dei diversi sindaci compreso quello di termoli angelo sbrocca di impegnare questi ospiti in attività di pubblica utilità a favore della collettività ad esempio infatti gli stessi ospiti dell'hotel modenese a termoli in attesa di strutturare il sistema di prima accoglienza ospitalità inclusione e integrazione sociale secondo le regole definite per il sprar sui richiedenti asilo e rifugiati potrebbero essere inseriti in percorsi di apprendimento e di attività di pubblica utilità che ne valorizzino le competenze determinando una più celere ed efficace azione di inclusione positiva nelle comunità locali ciò consentirebbe di gestire la problematica con minori difficoltà e maggiori vantaggi anche per le strutture territoriali del ministero dell'interno e per le autonomie locali e regionali dunque la prefettura ha invitato i comuni interessati a sottoscrivere dei protocolli d'intesa per definire tali attività lo ha ricordato nei gesti nell'azione pastorale attiva e propositiva don peppe diana è stato trucidato dalla camorra casal di principe era un prete forte e giusto oggi a termoli il fratello emilio diana ha aperto presso il cinema oddo la serie di lezioni della scuola della legalità insieme al presidente di corea vincenzo musacchio promotore dell'iniziativa il programma di questo primo anno della scuola si suddividerà in due parti la prima affronterà il concetto di legalità nei vari contesti la seconda tratterà degli uomini delle donne che hanno lottato combattuto e perso la vita per il trionfo della legalità musacchio l'aveva detto l'obiettivo è trasformare l'informazione in responsabilità la persona responsabile davanti alla società tanti studenti hanno ascoltato emilio diana e nelle sue parole hanno potuto scoprire il valore inestimabile di padre peppe parroco che ha fatto del percorso di vita e di insegnamenti sano e giusto il suo baloardo e nel ricordo vivo si trova la forza di combattere il male si colloca tra i moderati del centrodestra è un file aperto come lo definisce michele marone il precursore del nuovo movimento azione civica molise nel quale ha detto il consigliere comunale di minoranza possono entrare tutti coloro che hanno voglia di lavorare per la tutela e il futuro del nostro territorio questo movimento continuato marone nasce con il fine di raggiungere un'azione amministrativa efficiente che possa garantire il raggiungimento del bene comune la presentazione ieri sera all'hotel meridiano al cospetto di vecchi e nuovi della politica al tavolo dei relatori ad almanforte a marone c'erano pino ruta agostino defenza costanzo pinti e cristian zami poi in platea tanti nomi notti dall'ex governatore iorio all'ex assessore chieffo c'è molto da fare ha lasciato intendere marone ed è utile farlo in questo coordinamento una sorta di comitato dei partiti delle forze del centrodestra attorno al quale dentro al quale bisogna lavorare per ridare futuro e speranza al nostro territorio grazie a tutti grazie a tutti